Direttore di Campli, al termine di una stagione estiva che ha mostrato alcune criticità sulla gestione della raccolta dei rifiuti su Termoli, questa conferenza stampa fa un po' il punto della situazione e rilancia l'attività verso la stagione autunnale. Sì, quest'anno purtroppo, già nel mese di maggio, abbiamo avuto grossi problemi proprio dai rifiuti spiaggiati, anche per l'esigenza di quello che si è verificato in Emilia Romagna, hanno portato diversi rifiuti spiaggiati nel comune di Termoli. Noi siamo stati costretti a portare circa 40 viaggi di rifiuti nel Maceratese, però purtroppo anche qui gli impianti erano saturi e pieni e non ci facevano scaricare. Quindi per noi è stata una grossa problematica. Proprio abbiamo riscontrato rispetto agli anni passati un incremento di rifiuti di provenienza dagli abbandoni e cestini stradali rispetto al mese di luglio di circa 170 tonnellate di rifiuti in più. E questo non è un dato allarmante perché significa che la gente non fa la differenzata ma lo porta verso i cestini. Noi abbiamo cercato di rinforzare le squadre mettendo un doppio o triplo turno, però purtroppo il quantitativo di rifiuto raccolto era elevato. Questi sono dati che non è che dice la Rieco, non lo dice Angelo Di Campi, ma sono dati che sono arrivati agli impianti e stanno su registri di carico e scarico. Basti pensare che 170 tonnellate noi abbiamo dedicato un mezzo grande che era parcheggiato presso il nostro deposito dove arrivavano i rifiuti di provenienza dagli abbandoni e cestini e venivano conferiti agli impianti. Sono 17 viaggi di mezzi grandi in più rispetto all'anno scorso. Quindi è stato un continuo raccogliere di rifiuti. Purtroppo forse c'è stata qualche mancanza, c'è stata qualche comunicazione non fatta preventivamente, c'è stata forse anche utenze che non pagano la Tari, dobbiamo fare delle verifiche su questo. Noi adesso di questa criticità ne prendiamo atto anche grazie alle segnalazioni che abbiamo ricevuto sperando che l'anno prossimo non si verificano più queste problematiche perché questi dati sono dati per me allarmanti e che non danno un bel lustro alla città. Poi noi forse siamo stati anche colti un po' impreparati da questo boom di rifiuti che c'è stato e purtroppo un po' di conseguenze sono state pagate. Ci abbiamo messo anche doppio o triplo giro però a volte non è stato sufficiente rispetto alle reali necessità. La mattina dopo le feste ci siamo ritrovati a raccogliere, poi potete venire anche dalle foto che saranno divulgate in conferenza stampa, rifiuti buttati sulle strade che non, cioè veramente non previste. Comunque spero che l'anno prossimo saranno, anche grazie all'iniziativa che vorremmo mettere in campo non si verificheranno più queste, ma sono iniziative di non far buttare rifiuti, farli differenziare. Andare a vedere i cittadini che se sono in regola con il discorso della Sare, sanno i mastelli perché abbiamo trovato anche parecchie situazioni di rifiuti conferiti con sacchi e non dentro i mastelli. Questa è purtroppo la situazione che abbiamo trovato quest'estate. Adesso ci rimettiamo mano anche da queste problematiche, si cerca di crescere per ricostruire e di non cercare di sbagliare di meno. Ma non c'è bisogno di maggior rigore? Sì, secondo me sì, perché non è giusto che poi gli utenti che fanno correttamente la differenziata e che pagano regolarmente la tassa vengono, diciamo, tra virgolette puniti dal comportamento scorretto di qualcuno. Ci vuole maggior rigore, ci vuole sicuramente il controllo c'è stato, ma ci dobbiamo organizzare ancora meglio per far sì che non si verifichino più queste situazioni. Grazie.